Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. È stata la risposta di Pietro nel brano degli Atti degli Apostoli inserita nella liturgia odierna a guidare la riflessione del Papa nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta. Una risposta che, ha detto Francesco, fa capire cosa è un apostolo, cosa è un cristiano, ovvero un testimone di obbedienza come Gesù, che, ha continuato il Pontefice, non è un testimone di un'idea, di una filosofia, di una ditta, di una banca, di un potere. Il Papa ha ricordato che è solo lo Spirito Santo a renderci testimoni, non un maestro spirituale né un libro. È lo Spirito Santo che cambia il cuore e questa è la grazia da chiedere al Signore, come quella di non spaventarsi davanti alle calunnie. Le conseguenze del testimone di obbedienza sono le persecuzioni. Quando Gesù elenca le beatitudini, finisce, beati voi, quando siate perseguitati, insultati. La croce non si può togliere dalla vita di un cristiano. La vita di un cristiano non è uno status sociale. Non è un modo di vivere una spiritualità che mi fa buono, che mi fa un po' migliore. Con questo non basta. La vita di un cristiano è la testimonianza in obbedienza e la vita di un cristiano è piena di calunnie, di cerie, persecuzioni. La vita di un cristiano è piena di un cristiano è piena di un cristiano è piena di un cristiano. La vita di un cristiano è piena di un cristiano è piena di un cristiano. La vita di un cristiano è piena di un cristiano è piena di un cristiano. La vita di un cristiano è piena di un cristiano è piena di un cristiano.